Specialisti del cuore a confronto a Trani in occasione dell'edizione 2024 di CardioBat, il congresso scientifico promosso dal dottor Francesco Bartolomucci, direttore del Dipartimento Cardiologico dell'ASLBT. Medici ed esperti arrivati da tutta Italia si sono dati appuntamento a Palazzo San Giorgio per una due giorni, oggi e domani, dedicata alla formazione e all'approfondimento, l'occasione per parlare delle ultime novità in tema di prevenzione, diagnosi e terapie per le malattie cardiovascolari. Affronteremo in questo CardioBat 2024 i principali temi della cardiologia moderna, quindi dall'emodinamica al trattamento della cardiopatia strutturale, all'elettrofisiologia, all'innovazione in campo farmacologico per la cura dello scompenso cardiaco. La cosa importante è che questi temi saranno discussi con i principali autori scientifici in ambito diverso, quindi avremo i maggiori esperti nel campo dello scompenso, della cardiopatia strutturale, dell'elettrofisiologia e dell'emodinamica. Arma fondamentale per evitare l'insorgere di malattie cardiache si conferma quella della prevenzione primaria e secondaria. Solo attraverso il controllo dei fattori di rischio, quindi pressione alta, diabete, colesterolo, fumo, obesità, possiamo prevenire che il paziente vada incontro ad un evento cardiovascolare acuto, ma altrettanto importante è la prevenzione secondaria. Oggi abbiamo un armamentario farmaceutico e una tecnologia avanzatissima che ci consente di mettere in atto una serie di misure in grado di evitare che il paziente vada incontro ad un ennesimo evento cardiovascolare, quello che noi chiamiamo rischio residuo. Cioè un paziente che ha avuto un infarto, gli studi dimostrano che nell'arco di un anno, quattro anni, possono andare incontro a un nuovo evento. Anche nell'azienda sanitaria della sesta provincia negli ultimi anni sono stati compiuti enormi passi avanti in ambito cardiologico, facendone un polo di eccellenza nel trattamento di queste patologie. Se abbiamo dei risultati veramente eccellenti, per cui pongono la cardiologia della BATTA, fra le più importanti cardiologie pugliesi, devo dire grazie alla nostra direzione strategica, che crede in quello che stiamo facendo e non abbiamo nulla da invidiare ad altre strutture, ad altre regioni, ad altre, quindi ASL. stiamo facendo i grossi passi avanti e speriamo che continui questo progresso.